Eccoci ritornati insieme dopo la parentesi su Maria Gargani con il nostro direttore e suor Gloria. Come vi avevo anticipato e promesso stamattina avremmo parlato, avremmo condiviso con voi una bellissima storia con il suo diretto protagonista ed è per questo motivo che siamo già in collegamento con Pietro Scidurlo direttamente da Somma Lombardo in provincia di Varese. Pietro è nato lì, mi auguro di non aver fatto una gaffa, vivi anche a Somma Lombardo, Pietro? Buongiorno a tutti amici di Padre Pio TV, vivo anche a Somma Lombardo. Molto bene, molto bene, mi fa piacere essere partito col piede giusto. Grazie per la tua disponibilità ad essere qui con noi stamattina perché la tua è veramente una storia bellissima che vale la pena raccontare e condividere. Noi oggi lo faremo con quanti ci seguono dall'Italia, da tutta Europa sul 145 del Digitale Terrestre o anche in streaming su www.padrepio.tv per cui Pietro la parola passa a te. Tu sei, abbiamo detto, nato a Somma Lombardo nel 1978, sei un viaggiatore nell'anima ma non solo, anche nel corpo, nonostante tu, come dire, abbia delle esigenze specifiche diverse da un comune camminatore. È per questo che nel 2012 dai vita a Free Wheels, ruote libere, per realizzare cammini accessibili per tutti, per accompagnare quanti come te hanno esigenze specifiche di accessibilità ai cammini, però ecco, io ho già detto tanto, adesso tocca a te. Grazie mille innanzitutto per questa opportunità di far conoscere, oltre alla mia storia, un po' quello che fa Free Wheels. Free Wheels è un'associazione che si occupa appunto di tracciature e mappature di percorsi e itinerari per persone con esigenze di accessibilità. È nata appunto nel 2012 dopo un'esperienza che ho fatto sul Cammino di Santiago. Quello che è successo poi, ovviamente, nessuno se lo aspettava, perché io sono partito per motivi personali, per affrontare meglio, per un percorso di crescita, e affrontare meglio la mia condizione di persona con disabilità, e dopodiché le opportunità si sono moltiplicate una dopo l'altra. Come avete fatto vedere voi, ho avuto l'opportunità di diventare un autore di Terre di Mezzo e oggi collaboro direttamente all'interno della casa editrice per la redazione percorsi e per l'accessibilità di eventi e tutto quello che esce dalla pancia di Terre di Mezzo. E Santiago per tutti è stata appunto la prima pubblicazione per cui sono diventato autore. Santiago per tutti è una guida ufficiale del Cammino francese che consente, appunto come dice il titolo, a chiunque di affrontare il pellegrinaggio dai Pirenei all'oceano. Molto bene, io sono rimasto piacevolmente colpito dalla definizione che io stesso poi ho utilizzato nell'introduzione della nostra chiacchierata, relativa alle persone con esigenze specifiche nell'affrontare il cammino. Perché effettivamente, se ci pensiamo soltanto un attimo, ognuno di noi ha delle esigenze particolari, per cui ecco, mi piaceva molto questa attenzione, questa sensibilità al raccontare la tua esperienza, un'esperienza che poi ha una ricaduta estremamente positiva per tante persone che vorrebbero fare quello che fai tu, ma magari tante volte anche soltanto per una mancanza di giusta consapevolezza, per una mancanza di un pizzico di coraggio, non si decidono a varcare quella porta. Beh, Tony, io credo che il primo passo in ogni cosa, nel lavoro, nell'amore, in ogni esperienza, sia sempre un po' il più difficile. E quindi lo è anche nel cammino. E quindi questa cosa qua serviva, come dire, l'idea di dar vita a Free Wheels serviva proprio per facilitare questo primo passo, per comunicare alle persone che messi nelle giuste condizioni non c'è nessuna esperienza che non si possa intraprendere, indipendentemente dalle esigenze che ognuno di noi ha. E come dicevi giustamente tu, ognuno di noi ha le proprie esigenze. E quando pensiamo a un'esperienza come al cammino, che porta con sé una serie di difficoltà, beh, è giusto che ognuno la costruisca attorno ai propri bisogni. E chi, come me, fa questo lavoro, progettare, itinerare, di costruire cammini per tutti, deve farlo mantenendo ben salda l'idea che l'accessibilità faccia parte, fin da subito, della progettazione, della strategia di sviluppo di un progetto. Poi ti confesso un'altra cosa, Pietro. Anch'io nel mio piccolo, sono un piccolo camminatore. Io che vivo e lavoro per gran parte dell'anno sul Gargano, ho la possibilità di camminare questo territorio. Sono chi mi segue, sa che sono anche un grande appassionato di orchidee spontanee che sul nostro Gargano trovano una concentrazione molto forte. E quando camminiamo, uno dei sentimenti che viviamo è anche quello della solidarietà, del gioco di squadra, perché fosse anche nell'incitarci a vicenda, quando subentra la stanchezza o un passaggio un po' più difficoltoso, ecco, il fatto di camminare insieme è assolutamente un valore aggiunto. e credo che nella tua esperienza il fatto di fare un percorso insieme, la logica del team, della squadra, sia un elemento che arricchisce l'esperienza. Guarda, noi su questo punto, e ti ringrazio di averlo sollevato, ci teniamo parecchio. Camminare in autonomia per chi ha esigenze di accessibilità non significa camminare da soli, significa fare con le proprie forze, ma è bello condividere un'esperienza di cammino, che è un'esperienza di incontro con amici e con altri viaggiatori. Quindi sì, diventa un po' fondamentale la componente della condivisione, la componente di essere pronti ad aprirsi all'altro nella difficoltà e nella gioia. Ecco, e poi, come dicevi tu, nel 2015 concentri questa tua esperienza in questo libro, Santiago per tutti, ma non è il solo, perché nel 2020 a Santiago per tutti fa seguito Per chi vuole, non c'è destino. Il titolo è tutto un programma che mi piace moltissimo, ma ti chiederei di raccontarcelo tu stesso. Partirei proprio un po' dal titolo che è stato scelto direttamente dalla curatrice del libro, che è la direttrice di Terre di Mezzo, Miriam Giovanzana, e l'obiettivo di questo titolo è appunto far capire che se è vero che ognuno di noi ha un destino, beh, questo destino in un certo qual modo, con una grande forza di volontà, si può anche un po', come dire, variare, si può un po' anche spostare. E quindi, in questo libro, l'intenzione è appunto quella di far capire, io sono, diciamo, tendenzialmente conosciuto in quest'ambiente come appunto la persona che si occupa di cammini accessibili a tutti. Oltre a far conoscere Pietro il camminatore, si vuole far conoscere anche il cammino di Pietro, quindi la storia, come ho raggiunto questo status attuale, dove, lo dico sempre, quando mi chiedono se sono felice, sì, sono felice, però quando cammino lo sono di più. E per chi vuole non c'è destino, c'è proprio tutto questo racconto. C'è un racconto basato su fatti reali della mia vita, dove faccio capire come sono tornato a camminare. Possiamo usare questo eufemismo? Assolutamente sì, e io invito tutti i nostri telespettatori a farsi nella lettura di questi libri, perché sono certo che saranno, come dire, forieri di tanti spunti di riflessione belli e importanti. Prima di arrivare ai saluti finali, voglio chiederti, ecco, oltre che nei tuoi libri, dove possiamo seguire le tue attività, le tue iniziative, e che cosa bolle in pentola per il futuro? Allora, devi sapere che oggi noi di Free Wheels partiremo per un nuovo cammino. C'è un'iniziativa che abbiamo lanciato l'anno scorso, che si chiama Clixoom Ways, che ha l'obiettivo ogni anno di girare una regione diversa. Quindi faccio un piccolo spoiler, spero che in futuro io possa venire anche a camminare nella mia Puglia, perché tu non so se lo sai, ma sono in parte pugliese. Quest'anno, la prima edizione è stata in Emilia-Romagna, quest'anno andremo a girare il Veneto, e Clixoom Ways è il cammino di un gruppo di amici, alcuni con esigenze di accessibilità, perché sono persone con disabilità motoria, altre invece sono persone che vanno in bicicletta. Giriamo ogni anno una regione, quindi attraversiamo di fatto una regione spostandoci e andando a promuovere i cammini di quella regione, che spesso e volentieri sono sempre più di uno. Andiamo a valorizzare il territorio, l'accoglienza che riceveremo, che è il vero cuore pulsante, insomma, sui cammini, ma soprattutto l'accessibilità e l'esperienza del cammino. Quindi potete seguirci e contattarci attraverso i canali di comunicazione di Free Wheels, quindi sito, Facebook, Instagram, LinkedIn, chiunque, e attraverso anche la pagina di Terre di Mezzo, c'è una pagina dedicata proprio a me come autore, lì ci sono i miei contatti, e quindi insomma vi invito a seguire Clixoom Ways in Veneto, che partirà già domani mattina. Che bello, sono doppiamente felice allora di aver fatto questa chiacchierata, anche per aver scoperto le tue origini pugliesi, mezze pugliesi, per cui ti aspettiamo, braccia aperte anche in Puglia. Ti pregherei di documentare il cammino che inizia domani, perché eccomi farebbe molto piacere dare conto di quello che succederà nei prossimi giorni appena io torno in onda. Per il momento ti saluto e ti ringrazio per essere stati con noi, ti auguro davvero buon cammino, che possa continuare ad essere il tuo percorso di grande ispirazione per tanti, per cui buona strada a te Pietro. Ciao, grazie. Ci risentiamo presto, ci conto, intanto ci fermiamo per qualche istante e poi ci avviamo per la volata conclusiva della puntata di oggi. A fra poco.